Un bilancio estremamente positivo per l'Italia, per Interpol Italia, ma anche per le forze di polizia italiane. Sono stati espressi dei numeri straordinari, record di ministri che hanno partecipato alla ministeriale, record di paesi che hanno partecipato all'Assemblea, record di delegati, ma vorrei dire anche in termini di contenuti. Le forze di polizia italiane hanno avuto la possibilità di esprimere le loro migliori professionalità e di affrontare argomenti di estremo interesse per tutto il mondo, per tutte le polizie del mondo e per la sicurezza del mondo. Il contrasto alla criminalità organizzata, il contrasto al cybercrime, la lotta contro la tutela delle opere d'arte rubate e infine non da ultimo il contrasto alla criminalità economica e finanziaria. Temi estremamente importanti, il bilancio è assolutamente positivo, noi siamo anche soddisfatti di aver espresso un nostro candidato di grandissimo spessore in seno al comitato esecutivo. Al termine di questa Assemblea, a noi Interpol Italia e a noi forze di polizia italiane, viene da dire arrivederci in Italia, auguri alla Colombia, il prossimo paese che ospiterà l'Assemblea, forza Interpol e grandi successi a tutti noi.